Ciao, sono Federica e quest'estate sono partita con IEF per seguire un corso di lingua inglese all'estero e la destinazione che ho scelto è stata Oxford. Il soggiorno linguistico, durato in totale tre settimane, mi ha permesso di migliorare le mie skills e quindi di passare da un B1 a un B2. E inoltre praticare l'inglese ogni giorno mi ha permesso di acquisire maggiore fluidità nel parlare. L'alloggio, quindi l'accomodation che ho scelto è stata quella del campus, quindi l'alloggio che ho scelto è stato quello in campus e questo mi ha permesso di conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Quindi questa esperienza, oltre ad arricchirmi dal punto di vista accademico, mi ha rifiuto soprattutto sullo piano personale. Infatti ogni persona che ho conosciuto mi ha lasciato qualcosa e soprattutto sono tornata a casa con un bagaglio pieno di insegnamenti tra cui maggiore consapevolezza di me e del mondo che mi circonda. Oxford è un posto che porterò per sempre nel mio cuore e connesso tutte le persone che ho conosciuto e i momenti che ho vissuto e un giorno spero di ritornarci. Ciao!